Perché non lo decidete insieme ai cittadini, questo chiede il comitato, di essere un po' coinvolti? Sì, ma assolutamente, infatti credo siano già stati avviati degli incontri, noi avevamo iniziato, devo dire, per essere onesta, il consigliere, il presidente Stefano, sa che quando eravamo consiglieri abbiamo iniziato a lavorare proprio con i cittadini su questa parte, su questa porzione della città, sono stati raccolti dai residenti stessi oltre 1200 firme per chiedere la pedonalizzazione. Non dai residenti, sono gente esterna, i residenti hanno tutti votato contro, tutti, il 95% è contro. Poi c'è una precisazione di una cosa, di un racconto 1200 firme per i residenti, sono tutte di noi residenti.